Davide Giacalone per la Rassegna Stampa, ciao Davide. Buongiorno, buongiorno, bentrovati, però oggi comincio, me la faccio io una domanda perché dovete aiutarmi, c'è una cosa che non capisco, leggo un titolo su Repubblica, nelle pagine interne, radio a scacciare la crisi sono gli smart speaker e i pc, DJ seconda negli ascolti. Chi è la prima? Beh, lo sappiamo, sappiamo, va bene, ma è su Repubblica, dai, dai. Possiamo dire una cosa su questo? E vedi però, è su Repubblica, questo è il bello, cioè l'informazione, è una cosa seria, allora abbiamo fatto una gara di velocità, è arrivato il secondo Enrico, e chi è arrivato primo? Perché poi lo devi dire. Cioè dammi il podio, almeno i primi tre, hai ragione, hai ragione. Possiamo Davide dirla una cosa fuori dai denti, una volta per tutte? Perché hai ragione, cioè la correttezza dell'informazione vuole che anche se RTL 125 non è figlia di un gruppo, diciamo, imprenditoriale che edita quotidiani, rimane ormai da anni la prima radio italiana. È ovvio che l'interesse di Repubblica per DJ deriva dal fatto, lo spieghiamo, non va spiegato agli ascoltatori perché non lo sanno. È lo stesso gruppo editoriale, ma è totalmente legittimo. Però dammi l'informazione, se c'è il secondo, dimmi chi è il primo. Siamo noi! Vabbè, l'abbiamo chiarita. C'è Davide Giacalone che parla ai microfoni della prima radio italiana. Adesso, sempre sulla prima radio italiana, diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani in edicola, Corriere della Sera. Si lavora al Conte Terra tra gli ostacoli. Da oggi le consultazioni al Quirinale e poi appunto Repubblica e fa un titolo diverso, al di là della classifica delle radio. Conte nelle mani di Renzi. La crisi al buio. Davide, a te. Allora, sentite, qui la questione è molto semplice. Il tema è quello che il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita. Siamo più o meno nelle previsioni alla metà di quello che è previsto nei conti del Governo. A chi si fosse dimenticato che esistono problemi economici, ricordo che se noi avessimo lo stesso spread della Spagna, la Spagna sto parlando, non mica la Germania, della Spagna, risparmieremo un miliardo e 600 milioni di spese sul pagamento degli interessi. Siamo indietro con la campagna vaccinale che si dica. Oggi c'è una bella intervista di Ornella Barra, che è amministratrice manager di un gigante di case farmaceutiche. Ci ricorda che nel Regno Unito e in Stati Uniti già si fanno le vaccinazioni nelle farmacie e che questo velocizza molto e che potrebbe consentire anche in Italia di velocizzare molto le vaccinazioni. Naturalmente non appena saranno disponibili i dosi in abbondanza, cosa che dovrebbe avvenire fra poco. Queste sono le cose sulle quali bisogna impegnarsi, prevedere, qualsiasi governo si faccia. Questo è quello che conta. Piano next generation e piano di vaccinazioni. Se fossimo un paese di persone che guardano all'interesse nazionale, c'è un signore che va in circolazione, si chiama Mario Draghi, che ha competenze, standing internazionale, potrebbe accompagnare questa fase, prendendo conto che non si farà mai, stiamo parlando di altro, perfetto. So bene che in questa legislatura per reggere un governo bisogna utilizzare i trasformisti perché se no, per la semplice ragione, non c'è una maggioranza di governo, però cerchino di farla meno palloccolosa e lunga, perché a tirare troppo la corda poi c'è il rischio che qualcuno si stufi. Davide, su tutti i giornali ovviamente oggi c'è un ricordo del giorno della memoria, c'è chi lo fa con testimonianze, chi lo fa aprendo ovviamente, come nel caso di Repubblica con un inserto apposito che si chiama Robinson, ovviamente una riflessione rispetto all'importanza della memoria, decidi tu che taglio dare a questa giornata, a questo ricordo. Il rischio grossissimo che si corre è quello di cadere nella ritualità, la ricorrenza, il giorno della memoria, quindi a questo punto dobbiamo parlarne tutti per forza perché è il giorno della memoria e questo non è una buona cosa perché la ritualità uccide invece quello che serve e cioè la conoscenza, la cultura e la memoria. Il tema del giornata della memoria non sono le vittime, tutti i giornali, ma è ovvio ed è giustissimo, naturalmente pubblicano pezzi e fotografie degli ebrei deportati o quest'anno forse c'è un accento maggiore e fanno bene sugli ebrei che si ribellarono alla deportazione e ai ghetti. Ma il tema della giornata della memoria non sono le vittime, sono i carnefici, cioè siamo noi. È stato ricordato in diversi testi, però da ultimo c'è uno fresco fresco che sta in libreria, è un libro di Fiano, di Emanuele Fiano che si intitola Il profumo di mio padre, chi lo leggerà potrà anche sapere perché si parla proprio del profumo, in senso proprio come profumazione di mio padre. E Fiano ricorda che il nonno, suo nonno italiano, ebreo, era fascista, era entusiasticamente fascista, andavano in piazza con gli amici, andavano alle adunate, stendevano il braggio, duce, duce, duce. Quegli italiani lì sono stati traditi due volte, sono stati traditi come italiani, misconosciuti dagli altri italiani e sono stati traditi come fascisti, perché mandati a morire, come purtroppo è capitato ai nonni di Fiano, e il padre di Fiano è uno che è sopravvissuto al Lager, mandati a morire dai fascisti. Ora, l'Italia era fascista, quelli erano i nostri nonni, noi non siamo diversi geneticamente dai nostri nonni, siamo solo più lontani, distanti da quella tempesta, da quella tragedia della storia. Allora non è che ogni anno dobbiamo fare, chiamare la lacrima nei confronti delle vittime, dovremmo chiamare l'orrore nei confronti dei carnefici, cioè di noi stessi. Certo. Hai citato Emanuele Fiano che saranno sospite alle 7.35 questa mattina proprio con questo testo molto bello. Dobbiamo parlare di cose terribili, andiamo avanti, diciamo in questo caso non così lontane ma troppo vicine. È la cronaca, lui provava per Roberta un sentimento morboso, i PM accusano il fidanzato. La storia l'abbiamo raccontata anche nei nostri giornali orari nei giorni scorsi, questo 19enne che ha fatto trovare il cadavere della fidanzata, diciassettenne e all'inizio, insomma, certamente, anzi tuttora non confessando il delitto anche se poi il PM lo ha arrestato. Ora la situazione è molto molto grave perché ci sono dei precedenti ed evidentemente nessuno ha parlato o non abbastanza, Davide. Sì, sono due cose che incolpiscono. Intanto sempre questo modo, però un po' è sbislacco di informare. Farò il garantista anche, come sempre, con i confronti di tutti, anche di questo signore, ragazzo, insomma. I PM accusano il fidanzato. Scusate, ma che volete che facciano i PM? I PM accusano. La procura, cioè c'è un morto, ce l'ha lasciato questo qui, che volete che faccia? Però non è mica i giudici. Questo è un equivoco, si continua a dare all'opinione pubblica in pasto questa roba. Vedremo, nello specifico, se questa persona è da considerarsi responsabile. Dicono i racconti degli amici, soprattutto delle amiche della ragazza, della povera Roberta, che lui era molto geloso, era molto possessivo. È molto fastidioso essere gelosi e possessivi, però non è un reato. Se poi questo lo hanno portato a uccidere, lo stabilirà il giudice, non il pubblico ministero. Vi chiedo solamente una cosa. Secondo voi sarebbe lecito se oggi titolassi un pezzo su questa storia orribile dicendo si può amare fino al punto di uccidere? La famosa pubblicità. Esatto, sarebbe veramente una cosa di cattivo gusto. Ecco, nei confronti di un marito ammazzato è stato titolato, seppure di un fatto freddo, diciamo così, oramai distante nel tempo, si può amare al punto di uccidere. Vorrei che fosse chiara la risposta. Assolutamente no. Chi uccide ama pericolosamente, maniacalmente e malatamente se stesso. Nessuno dica mai che si alzano le mani, o peggio ancora, naturalmente si uccide su qualcun altro per amore, perché questa è una boiata che non può essere fatta passare neanche sotto forma di pubblicità. Continua la rassegna stampa con Davide Giacalone. Allora, dalle pagine interne della stampa, Davide, leggiamo questo. In Danimarca c'è l'app del sesso. Basta un click per dire lo voglio. Questa app che dà la possibilità di esprimere l'assenso ad avere rapporti nel corso delle 24 ore. A te. Ora, speriamo che non ci sia subito la traduzione italiana, che dopo i muni e io ci sia pure l'app. Vuoi? Posso? Oppure ti va? E devi mettere la freccetta per dire sì. Sapete, da questa sciocchezza ovviamente lascerà il tempo che trova, non avrà nessuna. Però da cosa nasce? Nasce dall'idea che il desiderio, il sesso, la passione sia sopraffazione. Cioè noi, alla fine della fiera, per le strade del rispetto, della parità, del politicamente corretto, siamo ritornati dove manco la santa inquisizione nei momenti di più feroce oscurantismo si era mai spinta. Cioè all'idea che fuori da un regolare matrimonio, spero che dentro il matrimonio debba utilizzare l'app, anche perché, diciamo così, sarebbe abbastanza singolare dover ogni giorno ristabilire. C'era una canzone di Modugno che diceva io non mi sposo perché ogni giorno ti dico sì, ogni giorno scelgo te. Ecco, mi sono sposato, almeno l'app forse possiamo rinunciarci. L'idea è che fuori dall'istituzionalizzazione e bisogna avere il permesso. Tutto questo distrugge non solo il sentimento, la tenerezza, ma distrugge anche la fantasia. Per cui devo dire che non invidio ai danesi di questa fondamentale passo nella civiltà dell'app per dire ci sto. Caro Davide, vorrei chiederti un'opinione su, scusate, il colpo di tosse, su una storia che francamente lascia un po' i brividi oggi e in prima sul quotidiano del messaggero. Uccisa a 15 anni dalle bulle, video shock in diretta social. Siamo in America, una rissa nel supermarket in Louisiana, la vittima coltellata a morte da una tredicenne. Le complici della killer hanno 14 e 12 anni. Una di loro ha filmato e postato tutto sui social. Sì, intanto ci sono due sindromi. La prima sindrome è quella dell'aggressività come personalità. Abbiamo cominciato, gli Stati Uniti hanno cominciato prima di noi e infatti diciamo che si trovano più avanti in questo andare indietro. Abbiamo cominciato con i talk show per cui bisognava essere aggressivi e così vi ricordate i grandi funari a bocca aperta, che era una sorta di simulazione dell'aggressione, però fatta a voce senza che nessuno ovviamente si facesse male. Però poi è diventato a bocca aperta, è diventato il confronto politico e qualsiasi altra cosa. E accanto a questa sindrome dell'aggressività come personalità, cosa che non è, perché tu sei aggressivo quando ti manca la personalità, non quando ce n'hai troppa. E accanto a questo c'è l'idea di documentare e filmare tutti, compresi i reati. Ma non sono i pricci, ne sono in questi giorni, nelle cronache, ci sono diverse, compreso l'abuso di una povera minore che ha problemi psicologici eccetera, che chi ne ha abusato si è ripreso. E poi si sono anche scambiati i video che uno dice ma bisogna essere scemi forte per riuscire a fare una cosa così. È considerato normale, come se se non mi riprendo e se non mi metto su qualche social, non esisto e quel che ho fatto non è mai esistito. Io vi garantisco che in una stanza da soli si può leggere un libro e anche senza informare gli altri si può goderne pericolosamente. Assolutamente così. Grazie a Davide Giaccarone naturalmente e torniamo domani come sempre intorno a quest'ora. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi e buona radio a tutti.